Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è sempre il 2 maggio 2011, cari amici. E sono tra l'altro le 17.30 circa, lunedì 2 maggio 2011. Beppe Grillo e Niki Vendola. Allora, Beppe Grillo, perché qua sul quotidiano toronese da stampa di ieri, domenica, primo maggio 2011, provo una bella paginata su Beppe Grillo, il ciclone Beppe Grillo. Ma non ne ha parlato nessuno, non ne ha parlato. In tv non le ho lette queste cose, eh? Cioè non le ho sentite queste cose in tv, poi ne parliamo. Poi, beh per Grillo, perché c'è una paginata intera del quotidiano torinese da stampa, e poi Niki Vendola, perché l'amico Rikki 1970, l'amico Rikki 1970, mi manda un link, Aprendo il link, mi salta fuori questo blog. Cose che nessuno ti dirà. No alla censura su web, eccetera, eccetera, eccetera. E cose che nessuno ti dirà. E il blog, cari amici, mi pare che sia www.nocensura.com E c'è un articolo di martedì 19 aprile 2011 che riguarda Niki Vendola. Io lo so che voi lo amate tanto, Niki Vendola, cari amici, e che avete riposto in lui tutte le vostre ultime speranze, e però si deve fare un po' di chiarezza, cari amici. Vabbè, un po' di chiarezza, perché una cosa sono le parole e un'altra cosa sono i fatti. Beh, torniamo a Beppe Grillo. Guardate qualche roba, una paginata antera, guardate cosa ha fatto il quotidiano torinese in una stampa. Sulle lezioni, il ciclone, Beppe Grillo, vediamo un po'. Il comico genovese riempie Piazza Castello a Torino. Mi pare che, dice, nessuno mai è riuscito a portare ad un convegno politico tanti giovani. Dice, il comico genovese riempie Piazza Castello e dichiara, se eleggiamo due consiglieri nel comune di Torino, sarà la fine per i partiti. Attacchi a Fassino, perché Fassino è il candidato sindaco di Torino, del PD. Giovane, giovane, Fassino, e credo che sia uno degli esponenti del PD più amati dal sindaco di Firenze, Matteo Renzi, il rottamatore. Attacchi a Fassino, vuole essere il nuovo, dichiara Beppe Grillo, ma da 35 anni dice le stesse cose. Suppongo che Beppe Grillo voglia dire che Fassino sta in politica da 35 anni e il mondo va avanti come se Fassino non esista, tranne che per la retribuzione parlamentare che è ben elevata. Anche se ama il popolo Fassino, ha la sua bella retribuzione parlamentare, come la simpatica Rosi Bigli, che mi pare che sia in Parlamento da 4-5 registrature accidenti, se ha ragione Matteo Renzi, sindaco PD di Firenze, il rottamatore. Grillo ha attaccato i partiti che si spartiscono un miliardo di euro di rimborsi elettorali, mentre i nostri candidati fanno campagna elettorale con pochi euro, tutti in autofinanziamento. La piazza, scrive il giornalista che ha fatto l'articolo, che è Andrea Rossi, la piazza è zeppa di giovani, quelli che ai raduni dei partiti si contano con il domicino. è naturale, è naturale. Ma guardate, io in qualche video credo di aver già osservato che il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo è il solo partito, quel movimento capace di riportare a votare tutte quelle persone che sono il 20-25%, che non ci hanno più voglia ad andare a votare. Perché tanto che si tratti dei partiti della destra o che si tratti dei partiti della sinistra, sinistra la musica è sempre quella. Io conosco tantissime persone di grande fede ex comunista e attualmente simpatizzanti per il PD o anche per la sinistra che non ci vanno più a votare. Non ci vanno più. Dopo aver votato per 30 anni, 35, non vanno più a votare. Beppe Grillo per me è capace di riportarli a votare. Il grande bacino cui attingerà Beppe Grillo sarà il bacino di tutti coloro che da tanto tempo hanno smesso di andare a votare. Insomma, cosa si deve dire più di così, cari amici? Cosa si deve dire più di così? Grillo ha attaccato i partiti che si spartiscono un miliardo di euro di rimborsi elettorali mentre i nostri candidati fanno campagna elettorale con pochi euro, tutti in autofinanziamento. Tanti mi hanno detto Beppe Grillo è così adesso, poi quando avrà il potere diventerà anche lui come tutti gli altri. Vabbè, ma intanto è lui che rappresenta il nuovo che avanza. Ma anche Di Pietro rappresenta il nuovo che avanza. Ha promosso tanti referendum e Tonino Di Pietro ma che ne avesse promosso che avesse promosso il referendum che è la madre di tutti i referendum. Cioè, un bel referendum popolare perché si stabilisca quale debba essere la paga dei parlamentari. perché la paga dei parlamentari non sta mica scritta nella carta costituzionale. La carta costituzionale si è dimenticata di stabilire quale deve essere la retribuzione dei parlamentari. Per cui i parlamentari poverini poiché la carta costituzionale ha questa grave laguna si sono dovuti rimboccare le maniche e fare la fatica di essere essi stessi a stabilire quale debba essere l'aeropaga mensile che oggi ammonta oggi la paga mensile di un parlamentare mi pare che ammonti tra i 15.000 e i 20.000 euro contro i 1.000 e 1.200 euro di un operaio metalmeccanico. Mai, mai, mai nessuno che abbia promosso un referendum popolare di questo tipo. Qualche simpatico amico mi ha detto ma guarda che la carta costituzionale prevede che i referendum non si possano fare sulle questioni di bilancio sulle questioni finanziarie e vabbè ma 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 e perché Torino Di Pietro che se ne intende tanto di leggi perché è stato un magistrato e non ha posto la questione delle plaghe dei parlamentari all'attenzione alla consulta in modo che la consulta possa dire se se le leggi fatte dal Parlamento per le paghe dei parlamentari che la legge lì è costituzionale o incostituzionale perché non si non si capisce bene per quale motivo i parlamentari debbano farsi delle leggi a persona ma qual è il punto di riferimento per stabilire quella paga giusta per i parlamentari la paga giusta per i parlamentari e paga non si dice paga ma per farci capire meglio dico paga la paga giusta per i parlamentari sarebbe la paga media di un cittadino italiano medio e vabbè ma 15-20 mila euro non rispondono mica alla paga media di un cittadino medio italiano a parte il fatto che io tante volte vi ho detto che rifacendomi a Platone che i governanti i politici in genere non dovrebbero avere nessun tipo di paga è solo rimborso delle spese di vito alloggio in modeste locande e di rimborso delle spese di viaggio sui mezzi pubblici tranne gli aerei ecco allora si fa presto dice la carta costituzionale non prevede referendum popolari sulle questioni di bilancio sulle questioni finanziarie e chi se ne frega se un politico è onesto se Tredino Di Pietro è onesto e perché non fa un referendum popolare per modificare l'articolo della carta costituzionale in maniera che venga scritto nella carta costituzionale quale debba essere la retribuzione ebbo per i parlamentari non ci ha mai pensato Tonino Di Pietro pensa a tante cose e tanto attento a tante cose ma alla vaga dei parlamentari compresa la sua non ci ha mai pensato ma chissà perché beh allora arriviamo a Nichi Vendola che ormai rappresenta l'ultima speranza dei ragazzi è l'ultima speranza e Nichi Vendola è un poeta e con i poeti c'è poco da scherzare cari amici io ci ho fatto pure un video intitolato che nessuno mi tocchi i poeti e come poeta è il nostro amico Nichi Vendola si prende la paga di governatore delle Puglie che da quanto mi si dice qua in questo sito è la paga più elevata tra tutte le pache dei governatori d'Italia oibò ma com'è la salvezza d'Italia la speranza d'Italia al futuro dei giovani c'è una retribuzione mensile di 15.000 euro netti che adesso vediamo vediamo qua purtroppo vedete io non so perché si debba scrivere in questo modo non ci si capisce niente vendola stacca a tutti vendola stacca a tutti ai poeti poeti lo diceva il povero duce l'Italia è un paese di un popolo di poeti di artisti di santi di navigatori numero uno poeti è un poeta e come poeta stacca tutti perché il poeta è un creativo capito quanto ai presidenti di regione invece spicca su tutti quello pugliese di chi vendola di chi vendola ha brindato alla sua rielezione consapevole dei 18.885 euro che incasserà ogni fine mese beh a me risulta che comunque netti siano 15.000 euro però è a number one è un poeta un popolo dei poeti diceva il povero duce lui è un poeta fa il poeta proprio segue segue gli indirizzi di Benito Mussolini che l'aveva rilevato rivelato 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 che l'Italia è un popolo dei poeti per cui Nichi vendola rientra proprio nelle categorie di Benito Mussolini un popolo dei poeti e c'ha e voi non contestate mei cari amici andate a contestare questo blog va bene il blog è www.nocensura.com va bene articolo di martedì 19 aprile 2011 va bene i definimenti ve li sto dando tutti quindi qua questo blog e io ci credo perché questa notizia l'ho letta anche da altre parti dice vendola stacca a tutti quanto ai presidenti di regione invece spicca su tutti quello pugliese Nichi vendola ha brindato alla sua rilezione consapevole anche dei 18.885 euro che incasserà ogni fine mese seguono tutti gli altri sotto Nichi vendola ci stanno pure i perversi pervertiti governatori leghisti che sono così perversi ma non sono poeti per cui prendono meno di Nichi vendola va bene e non si salva nessuno cari amici non si salva nessuno cari amici e siccome voi avete riposto le vostre ultime speranze nel poeta Nichi vendola cattolico tra l'altro perché il nostro non è solo un paese di poeti è un paese cattolico è anche cattolico c'era tutte le caratteristiche buone per far carriera politica Nichi vendola visto che voi riponete le speranze d'Italia e del governatore delle Puglie Nichi vendola cari amici allora voi dovreste chiedere a Nichi vendola ma perché Nichi vendola tu che sei la speranza del futuro hai una paga come governatore delle lontane Puglie una paga così elevata che non è comparagonabile con una paga degli operai metalmeccanici che tu Nichi vendola difendi ma perché ma perché riprendi questi soldini perché non ordini alla giunta alla giunta regionale delle lontane Puglie di fare una legge ad personam per te Nichi vendola in maniera che questa legge ad personam per te stabilisca che il presidente Nichi vendola sino a quando sarà presidente della regione Puglia non avrà nessun tipo di paga zero gli daremo soltanto il rimborso delle spese di vitto alloggio in modeste locande e il rimborso delle spese di viaggio sui mezzi pubblici tranne gli aerei Nichi vendola ma le leggi ad personam si possono fare nel proprio interesse ma si possono fare anche contro se stessi non è mica proibito da nessuna norma sai che tu Nichi vendola di tua spontanea volontà chieda che so al consiglio regionale delle Puglie o alla giunta regionale delle Puglie di fare questa legge ad personam per te e così dimostri che sei buono dimostri che non sei un cattivo sei un buono e così potrai andare anche a incontrare gli operai metalmeccanici delle cattive di buttaggio della Fiat dicendo guardate che io ho rifiutato l'ho rifiutata la mia paga l'ho rifiutata campo solo del rimborso delle spese di vitto e alloggio in modeste locante e del rimborso delle spese di viaggio su mezzi pubblici tranne gli aerei perché non lo fai Nichi Vendola questo sei un poeta lo so popolo dei poeti come diceva il povero duce Benito Mussolini la scolpita nel marmo la frase là all'Eura Roma al palazzo della civiltà un popolo dei poeti ah cari giovani cari giovani che avete riposto riposto le vostre speranze e questo grande poeta che è un governatore delle puglie e che è il meglio pagato tra tutti i governatori d'Italia che bello che bello essere poeti e proporsi come il futuro come la salvezza del nostro paese che bello che bello cari amici e io sui poeti ci ho fatto io gli voglio bene ai poeti ci ho fatto un video intitolato che nessuno mi tocchi poeti ecco cari amici ma come facevo a concludere la giornata la giornata questa giornata del 2 maggio 2011 senza parlare di questa notizia che Nighi Vendola si presenta davanti agli operai metalmeccanici che che protestano eh si presenta e che c'è una bella faccia tosta perché gli operai metalmeccanici che protestano c'hanno mille mille due mille tre euro al mese anche se c'hanno moglie e figli invece lui c'ha netti tutti i mesi quindici mila euro e non ha mai chiesto al consiglio regionale o la giunta regionale di fare per lui una legge a persona che lo privi di questo privilegio non è mica proibito gli antichi romani dicevano quod voluit lex dixit quod noluit tacuit e Nighi Vendola può benissimo chiedere che il consiglio regionale delle Puglie o o la la giunta esecutiva delle Puglie e faccia una legge ad personam per lui perché le leggi ad personam si possono fare per arricchirsi ma si possono fare pure per dimostrare la propria buona fede per privarsi anche di un emolumento che è senz'altro eccessivo nei confronti delle paghe degli operai di cui Nighi Vendola si vanta di essere il grande protettore va bene cari amici io non potevo concludere questa giornata senza compiere la mia buona opera quotidiana mi raccomando mi raccomando informatevi se sono vere le notizie che vi da Serafino Massoni e poi magari scrivete una letterina a Nighi Vendola o mandategli questo video e dici ma perché Nighi Vendola non fai le cose che dice Serafino Massoni perché allora ti crederemo ma se no quando tra il tuo dire e il tuo fare c'è di mezzo il mare c'è tra 15.000 euro netti al mese come facciamo a crederti e i cattivoni governatori delle regioni leghiste prendono meno di te come perché tu prendi più di loro eh va bene va bene ringrazio l'amico qua l'amico ricchi 1970 che mi ha mandato questa bella notizia e come ultima immagine vi lascio questa bella paginata di ieri primo maggio 2011 questa bella paginata del quotidiano torinese la stampa in cui si parla di una bella riunione per virgolette oceanica dei giovani grillini d'accordo grillo ha attaccato i partiti che si spartiscono un miliardo di euro di rimborsi elettorali mentre i nostri candidati fanno campagna elettorale con pochi euro tutti in autofinanziamento io tra dire e fare si deve scegliere il fare e mi pare che oggi come oggi il nuovo che avanza non sia Nicchi Vengola ma sia Beppe Chillo e va bene poi non mi fida a dire le solite cose e fa così adesso e perché poi dopo dopo quando sarà il potere vabbè intanto guardiamola adesso intanto va bene perché lui è l'unico nel panorama politico che dica certe cose che sono davvero il nuovo che avanza va bene va bene cari amici grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti